Dopo una pausa di 45 giorni, il 16 maggio segnerà il ritorno in mare delle vongolari dei porti di Giulianova e Pescara, un fermo biologico deciso dal Consorzio Cogevo importante per consentire il rinfoltimento dell'ecosistema marino. Le vongolari tornano in mare durante un periodo di 45 giorni di fermo tecnico. Noi abbiamo avuto la premura di uscire in mare con la ASL per il motopesca Valentino, per i soliti monitoraggi a vedere la situazione del prodotto e del mare, il mare sta bene. Questo rientro tuttavia è accompagnato da una crescente preoccupazione e l'invasione del Gran Chiu Blu nelle acque territoriali. Recentemente i pescatori hanno segnalato un aumento degli esemplari, un predatore noto per la sua voracità, in particolare di bongole e uova di seppia. Il Gran Chiu Blu quest'inverno era sparito, ho chiesto a gente esperta, mi hanno detto che era andato in letarica un'inverno con il freddo, però adesso si sta riproponendo. A mano a mano, a mano a mano se ne vedono sempre più esemplari quando si esce in mare, qualcuno della piccola pesca, qualche strascico. Non si sa se vediamo l'evoluzione, perché sul nord c'è emergenza, è stato fatto pure dal ministero un decreto apposta per aiutare chi versa in condizioni gravose su per la colpa di questo crostaggio. Vediamo cosa accade da noi, la preoccupazione logicamente c'è, vediamo in futuro se ci sarà proliferazione o no. Squeo ha anche sottolineato l'importanza di condurre degli studi dettagliati per tracciare l'evoluzione del fenomeno e sviluppare strategie di mitigazione. Questo Gran è un distruttore, secondo gli studi che hanno fatto sul nord, e quindi dove passa lui è tabula rasa. Giovedì vediamo la situazione intanto, ma secondo me tornerà più con il caldo. Qualche esemplare si comincia a vedere, io penso che con il caldo torneranno in massa. Lei ne ha portato uno qui per farcelo vedere, questo è piccolo rispetto anche ai granchi blu che sono stati pescati nel passato? Questo è stato catturato ieri, è piccolo, intanto comunque ci sono, ecco il punto. L'altro giorno è stato preso uno grande, evidentemente stanno arrivando, ma crescono subito, non è che ci mettono tempo a crescere, arrivano subito a maturazione.